...quando effettivamente si comporta un mondo, una, direi, risolta in più, perché è una cosa che può utilizzare, quella, quindi, è una cosa che ci... tutto questo discorso, questo esempio, c'è un po', perché il detto franciato, è rinanziato, rilanciato, la competitività internazionale delle brevi campagne del settore e della cittadina, attraverso un'attività integrata e sinistra di ricerca, formazione, anche spesa e promozione alzionale, perché il progetto è il suo progetto. Noi, parliamo della zona, abbiamo la parte che, diciamo, di poter fare anche meglio, proprio legata all'innovazione di prodotto, quindi nuovi, piaciute materiali e questi che vi lavorano. ...quindi un risorso di innovazione per l'innovazione, che porta 9, no, no, le nostre 9, i cittadini di realtà a realizzare prodotti unici e esclusivi utilizzati dei tessuti per una buona qualità, delle cittadini di realtà. e quindi abbiamo due personaggi, che sono la propria Luisa Pinochilla, il dottor Montano, il dottor Montano, il dottor Montano degli altri, e invece per rinanzi, il dottor Montano degli altri, e quindi noi riconoscendo anche il tuo padre, dietro di vedere che io, il tuo padre è così, legata con il tuo padre, perché il tuo sangue è così.